Elimar Lambri, specializzati in forniture alberghiere. L'azienda svolge attività di lavaggio e noleggio di biancheria per alberghi, ristoranti, comunità e linee aeree. Organizzazione in possesso di certificazione per la gestione del sistema qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001-2008, per l'erogazione di servizi di lavaggio del vestiario e biancheria piana per enti pubblici e privati. Si avvale di moderne attrezzature e tecnologie all'avanguardia. Per informazioni telefonate allo 06 998 71 57 e visitate il sito www.elimarlaundry.com.